Sono capace di ascoltare lo Spirito Santo che muove il mio cuore? Chiedo ispirazione a Lui prima di prendere una decisione o il mio cuore è chiuso, fermo, senza emozioni? È la domanda che tutti dovremmo farci, secondo Papa Francesco, che nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta ha commentato il brano degli Atti degli Apostoli inserito nella liturgia nel quale si descrive l'incontro di Paolo con alcuni discepoli di Efeso che non conoscevano lo Spirito Santo. Chiedo, ha proseguito il Pontefice, che lo Spirito mi guidi per il cammino che devo scegliere nella mia vita e anche tutti i giorni? E aggiunto, vorrei seminare questa domanda nel vostro cuore. Anche nei Vangeli ci sono questi. Pensiamo ai dottori della legge. Erano credenti in Dio, sapevano tutti i comandamenti, ma il cuore era chiuso, fermo. non si lasciavano inquietare, lasciarsi inquietare dallo Spirito Santo. E ho sentito questo. Ma padre, quello è sentimentalismo? No. Può essere, ma no. Se tu vai sulla strada giusta, non è sentimentalismo. Ho sentito la voglia di fare questo, o di andare a visitare quella malato, o cambiare vita, o lasciare questo. E sentire e discernere. Discernere quello che sente il mio cuore. Perché lo Spirito Santo è il maestro del discernimento. Una persona che non ha questi movimenti nel cuore, che non discerne cosa succede. È una persona che ha una fede fredda, una fede ideologica. La sua fede è un'ideologia. Tutto qui.